Banca Popolare di Marostica, una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Lunedì 23 dicembre, San Giovanni da Cheti e il 357 giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 8 alla fine. Il sole sorge le 7.49, tramonta le 16.35, la luna si leva le 22.47, tramonta le 10.54. Lorenzo Venier è nominato Capitano Generale da Mar, ossia comandante in capo di tutte le forze navali della Repubblica. Fino a lunedì 6 gennaio, assolutamente da non perdere la suggestiva mostra 100 presepi a Spinea. Molti ed unici presepi esposti, costruiti con cura dalle mani sapienti di artigiani e volontari. La mostra è aperta al pomeriggio, nei giorni feriali, e sabato, domenica e festivi anche al mattino. Gli amici del presepio di Giavera del Montello vi aspettano al Tempio Regina Pacis per visitare il presepio artistico in movimento con effetti speciali. Dal 24 dicembre al 31 gennaio tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30. Dal 7 gennaio, nei giorni feriali, solo su appuntamento, al 340 0-15-10-999. Le previsioni per domani. Molto nuvoloso o coperto, con probabili precipitazioni un po' più significative nella seconda parte della giornata, sulle zone montane e sulla pianura occidentale. Variazioni a carattere locale nei valori termici. Venti forti sud-occidentali in quota, deboli moderate orientali in pianura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.